E' una vera e propria chiamata ai cittadini a farsi avanti con consigli, segnalazioni e richieste in merito alla nuova pianificazione urbanistica della città. Si tratta di un innovativo format di urbanistica condivisa portata avanti dall'amministrazione comunale di Arezzo che mira all'ascolto delle idee ed esigenze dei cittadini. L'amministrazione ha rilevato che il contesto economico, sociale e finanziario in cui fu partorito il piano strutturale a metà degli anni 2000 e il conseguente regolamento urbanistico è ormai modificato, è ormai mutato. Quindi abbiamo deciso di andare verso una variante generale. Prima però di proporre alla città una nostra idea di nuova città in questo nuovo contesto abbiamo ritenuto opportuno e estremamente qualificante chiedere ai cittadini cosa ne pensano. e chiedere ai cittadini di darci un contributo che può riguardare le strade, può riguardare i parcheggi, può riguardare le loro proprietà ma anche non soltanto in modo tale da farci percepire qual è il comune sentire dei cittadini, dei professionisti, delle categorie economiche riguardo al futuro della nostra città in termini di gestione del territorio. Possono presentare queste idee fino al 30 di settembre, una parte delle quali se si vuole anche in forma anonima. Si entra nel sito generale del comune di Arezzo, si entra dentro la gestione dei dati territoriali e c'è un'apposita sezione che è contributo conoscitivo alla redazione del nuovo piano strutturale. Ecco lì può entrare il cittadino e lì si orienta bene, è tutto autoesplicativo e riempie online le sue idee. Una volta ascoltati i cittadini verrà avviato il tradizionale ITER per lo sviluppo del nuovo piano urbanistico, adozioni, osservazioni e approvazione con il coinvolgimento della Commissione Assetto del Territorio e Consiglio Comunale.